A tutti voi amici e grandi sostenitori, buon 2024. Con l'agenda Stai con Ciocca 2024, con il totem Rivoluzione Europea, auguriamo davvero a tutti voi che il 2024 possa essere l'anno della Rivoluzione Europea. Anzi, sono certo che grazie a voi il 9 giugno 2024 ci sarà la Rivoluzione Europea. Tocca a voi, da qui al 9 giugno fate passaparola, mi raccomando, vota Lega e scrivi Ciocca. La cosa bella dell'Europea è che siete voi a scegliere gli eletti. Questo sarà l'anno delle elezioni dove voi, con la preferenza, scegliete l'eletto, scegliete voi rappresentante in Europa. Quindi 2024 è l'anno della Rivoluzione Europea, con voi Rivoluzione Europea e con voi Stai con Ciocca.